Presidente, che 2019 è stato per la sessione AIA di Agrigento? È stato un 2019 dove siamo andati sicuramente a confermare il trend positivo che stiamo tenendo dal punto di vista tecnico principalmente e naturalmente anche associativo. Tantissime le manifestazioni sportive, organizzate, ma anche sociali, ma soprattutto tante le soddisfazioni che ci siamo presi in questo 2019. Voglio ricordare per esempio la promozione di tantissimi nostri associati, ma aver avuto la possibilità, grazie a uno dei nostri associati, Antonino Costanza, di dirigere una finale nazionale importante come la finale di Coppa Italia della Serie A Women tra Juventus e Fiorentina. Ma poi siamo presenti a livello nazionale e anche regionale in tantissime manifestazioni calcistiche di assoluta importanza. La più grande soddisfazione è vedere che sempre più giovani si avvicinano alla nostra realtà. Adesso, giorno 27 gennaio, avremo un ulteriore esame per nuovi arbitri. Ben 35 nuovi giovani si avvicineranno alla nostra sezione, provenienti un po' da tutta la provincia. Quindi stiamo veramente raccogliendo i sacrifici che poi quotidianamente tutto il mio consiglio direttivo, ma tutti gli associati, insomma, svolgono durante la settimana. Con queste festività di Natale avete incontrato anche diverse istituzioni della provincia. Con la FIGC c'è un rapporto sinergico molto più stretto, diciamo, dal punto di vista del legame rispetto magari al passato. Significa che tutti insieme si fa sistema, si fa squadra? Sì, diciamo che una delle priorità, quando io mi insediai come presidente, che posi nella mia agenda, era quello di aumentare i rapporti con tutti quelli che sono gli attori principali del nostro sistema. E quindi con la Lega Nazionale di Lettanti, dove abbiamo trovato grandissima sinergia con il presidente Santino Lopresti, ma anche con Stefano Valenti e adesso oggi con Angelo Caramanno. Abbiamo voluto rafforzare il legame di confronto con le società, perché siamo dell'idea che parlare, dialogare, confrontarsi, aiuta a crescere dal punto di vista culturale. Quando io arrivai ebbi la sensazione che molti addetti ai lavori non conoscevano le regole di questo sport, del calcio. Quindi ho voluto ingrementare quelli che sono gli incontri tecnici proprio con i calciatori, con i dirigenti, con le società in genere. Quindi riscontriamo che i calciatori più preparati di regolamento protestano meno e quindi creano meno problemi. E questo significa anche che c'è una bassa percentuale anche di violenza per quanto riguarda la sezione Aia di Grigento, pochi casi di violenza nei confronti degli arbitri? Se consideriamo che la Sicilia ha la maglia nera, subiamo più di 98 violenze annue nei confronti degli nostri associati, è la nostra sezione, grazie a Dio e con tutti gli scongiuri del caso, ogni anno non supera la 1-2 episodi lievi per fortuna. Io sono convintissimo che questo è dovuto al fatto che si sta facendo cultura sul territorio, cultura del regolamento ma cultura anche di fair play. Lei diceva poco fa l'incontro anche con le istituzioni. Abbiamo incrementato l'incontro con le istituzioni di Stato, i Carabinieri, Questura, che sono poi quelle persone che tutte le domeniche tutelano i nostri ragazzi quando vanno a dirigere le partite. Quindi c'è anche un bel rapporto tra queste componenti. Abbiamo incontrato il Cardinale Montenegro, che è quello che poi ci permette di incrementare sul territorio i rapporti con tutte le associazioni, quindi fare volontariato, fare conoscere la nostra bella realtà. Quindi più la gente all'esterno ci apprezza, meno magari ci perseguita. E poi non dimentichiamo il premio Livatino, l'importanza che in questi tre anni il premio Livatino ci sta dando a livello di immagine sul territorio e non solo sul territorio. E sono convinto che tutte queste attività, su cui credo tantissimo, porteranno sempre di più la nostra sezione ad aprirsi all'esterno. A proposito del premio Livatino, l'anno prossimo saranno 30 anni alla morte del giovane magistrato canicattinese. Ci sarà un'edizione particolare del premio che solitamente voi fate il 21 marzo, giornata della legalità? Sì, particolare no. Per noi il premio Livatino è sempre una giornata particolare. Anche quest'anno è già stato confermato, il Comitato Nazionale ci ha già dato l'autorizzazione e l'approvazione per la terza edizione, che sarà sempre fatta a canicattì. La faremo il 20 di marzo solo per una questione di opportunità, perché purtroppo il 21 di marzo quest'anno cade il sabato e se consideriamo che quasi tutti gli addetti ai lavori che faranno parte di questa giornata, nei weekend, compreso l'arbitro eventualmente da premiare, essendo un arbitro di solito di B o di A, nei weekend sono impegnati per arbitrare le gare di campionato e compresi noi addetti ai lavori, io compreso, nei weekend siamo molto impegnati in giro per i campi, chi a dirigerle, chi a visionare gli arbitri, quindi tutti gli addetti ai lavori sono impegnati, quest'anno abbiamo deciso di anticiparlo al venerdì, sempre presso il Teatro Sociale, già stiamo riscontrando, come è già stato l'anno scorso, un interesse particolare di tutte le componenti e aziende che ci sponsorizzeranno, ma anche e soprattutto tutte quelle che sono le componenti istituzionali, nel voler partecipare e quindi far sì che questo premio ogni anno cresca sempre di più.